Benvenuti su Viral News. Nel video di oggi vi parleremo del clamoroso ritorno televisivo di Barbara D'Urso e Belen Rodriguez che a breve potranno apparire insieme in questo nuovo programma. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Dopo l'addio di Amadeus alla Rai, sembra che l'azienda sia in cerca di nuovi volti per la prossima stagione televisiva, mentre Discovery continua ad ampliare il suo roster, includendo celebrità come Fabio Fazio e Maurizio Crozza. Secondo quanto riportato da La Stampa, Barbara D'Urso e Belen Rodriguez, entrambe ex figure di spicco di Mediaset, sono nel mirino del canale 9. Nel frattempo, la Rai tenta di compensare queste perdite e il futuro di Fiorello rimane incerto, nonostante gli sforzi del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per trattenerlo. Discovery sarebbe interessata ad aggiungere anche il noto showman alla sua lista, ma sembra che tra la D'Urso e la Rodriguez, potenziali future colleghe, non scorra buon sangue. I dissidi tra le due risalgono al tempo in cui Belen era compagna di Fabrizio Corona, la D'Urso ha ammesso di aver avuto motivi per criticare Belen ma ha specificato di non avere nulla contro di lei personalmente. Belen ha descritto i programmi della D'Urso come circensi, aggiungendo, non li apprezzo ma li rispetto, lei è comunque una grandissima professionista che fa il suo lavoro, il suo ruolo lo copre alla perfezione. Rimane da vedere se le due, unite dall'esperienza comune di essere state lasciate da Mediaset, riusciranno a superare le divergenze e a ristabilire un rapporto amichevole. Attualmente, sia Belen che D'Urso hanno preso una pausa dai riflettori televisivi e sono in attesa di una chiamata che potrebbe riportarle in gioco. La situazione è ancora incerta e si attendono conferme ufficiali per capire se le voci di un loro possibile trasferimento a Discovery si concretizzeranno. Entrambe le presentatrici sembrano essere in un momento di riflessione e potenziale transizione nella loro carriera televisiva. E tu cosa pensi di Belen e di Barbara D'Urso? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.